siamo dal grande meccanico di villaric l'unico meccanico di villaric buono non ce ne stanno è unico è solo Pasquale guardate qua non fai le macchinette ciao Pasquale saluto il popolo non fai le macchinette guardate qua fai le macchinette vicino a quale motore sta il popolo guardate guardatelo Pasquale dite il popolo ma guardate arriva fra poco dite il popolo che arriva l'aereo non è una cosa semplice ragazzi mi stanno facendo i motori dell'alfa i motori della cucca i motori del camion vai sotto facci sognare Pasquale dai venite qua venite a guardare diglielo fagli imparare prima questi ragazzacci che si vogliono imparare meccanici che si aprono le officine diglielo ma la sorpresa bravo Pasquale la sorpresa ma la sorpresa quando la fai? a settembre a settembre ce la facciamo a settembre allora ok una sorpresa a settembre allo popolo facciate qui il cumbino faratemi Pasquale meccanico elettrato officina gra arrivo e per tutta la gente che vuole la mano e tiri 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 ciao Pasquale saluto te viaggi c'è chau anche la prof c'è